finalmente dopo un bel giretto per phuket siamo arrivati a banana beach oggi è il dhabu che ci ha portato qua col navigatore vediamo dove siamo finiti sentirino tipo l'hamsing l'hamsing beach bisogna scendere così uguale ci sono le scale andremo anche l'abbiamo non siamo arrivati bella demi ce l'abbiamo fatta banana beach banana beach frutta vai mi sembra pineapple for demi e tu diet non ti portano niente arriva fried rice bello bollente with chicken c'è la pesca c'è la pesca e 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 la pesca un po' di l'ho e la pesca e la pesca Grazie a tutti.